La scuola come centro civico, cioè luogo aperto al territorio, al servizio della comunità, oltre ai tradizionali orari scolastici. Una scuola moderna, sostenibile, socializzante, ma soprattutto sicura. Di questo tipo di scuola si doterà presto il Comune di Torre dei Passeri. Entro l'ottobre 2024 sarà infatti realizzata la nuova scuola primaria, nell'ambito dei piani di intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione Abruzzo, danneggiati dagli eventi sismici del 2009. Oggi, in cantiere, in via Dante e Lighieri, a Torre dei Passeri, la posa della prima pietra. Il sindaco di Torre dei Passeri, Giovanni Mancini. Ci sarà una scuola, una nuova scuola primaria, che sarà il primo lotto, sarà realizzato e sarà fruibile per la didattica. Ovviamente mancherà del secondo lotto, che comunque è stato finanziato, e ci apprestiamo tra qualche settimana a completare anche le fasi progettuali. Già con il primo lotto però i ragazzi potranno andare a scuola. Nel secondo lotto è prevista tutta l'aria esterna e la finitura nel dettaglio della palestra. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Per noi è importante anche questo cantiere perché segna la ripartenza. Dopo troppi anni in cui gli uffici si palleggiavano le responsabilità. Oggi c'è un capo della struttura tecnica di missione 2009, dottor Fiorentino, nominato dal nuovo governo Meloni, che ringrazio perché finalmente abbiamo una persona che ha preso queste carte, ha messo in fila, ha sciolto i nodi, portato a conclusione le istruttorie, fatte autorizzare dal CIPES come finanziamenti. Ora cominciamo a vedere finalmente i cantieri realizzati. Questo è il primo di una lunga serie e speriamo davvero di poter presto mettere la parola fine al tema della ricostruzione e di poter consegnare all'Abruzzo un patrimonio di scuole moderne, efficienti, tecnologicamente avanzati, sostenibili sotto il profilo energetico ed ambientale e assolutamente sicure sotto l'aspetto sismico. Il sottosegretario all'istruzione, onorevole Paola Frassinetti. Questa è la cittadella della scuola, sarà una scuola che comprenderà diversi ordini dalle medie alle primarie, la scuola dell'infanzia, quindi noi crediamo che questo stanziamento di risorse che il governo ha fatto servirà veramente a costruire un polo scolastico molto attrattivo in questo territorio. Ha detto spero di essere invitata per l'inaugurazione. Sì certo, io ho anche fatto un appello da ex assessore all'edilizia scolastica di Mirale Provincia alle imprese che dovranno operare perché la velocizzazione, il mantenimento dei tempi è fondamentale perché l'opera sia completata. La nuova scuola è stata progettata per ospitare 10 classi. L'intervento costerà circa 5 milioni di euro con fondi Cipe e Cipes.